Per me è solo sempre, ma tutti lo conoscete come Gianluca Semprini. Ehi! Quanto tempo! Sì, diciamo, non volevo far passare troppo tempo, poiché ci vogliamo molto bene, ho detto non me lo posso perdere, subito lo devo avere. Devo dire che mi sei mancata in questi due giorni. Ti ho fatto commuovere? Sì, un pochino sì, un pochino sì. Adesso si è accesa la telecamera, quindi riprenderò il mio aplomb e la mia rigidità, come sai, però ci siamo anche divertiti tanto. E poi, lo possiamo dire, è andata bene e quindi siamo molto contenti. Sì, siamo molto contenti, ma qui mi interessa il maschio, non mi interessa sempre, perché hai detto di essere incasinato, innamorato e intransigente. Incasinato, ecco, ma tu ti incasini tu o incasini quelli che stanno a fianco a te? Diciamo che la cosa è reciproca. Esatto. Beh sì, una vita molto incasinata, è una vita molto piena, perché è un lavoro molto impegnativo, quattro figli, tante cose, però è sempre stata incasinata, è stata una vita molto bella, in certi momenti molto brutta, con tante gioie, tanti dolori, tanti figli, quindi anche incasinata per questo, io ho un'agenda che provo a seguire, ogni giorno scrivo un'agenda classica e poi non la seguo mai. Perché tu hai quattro figli con due mogli. Sì, sì. Quattro figli con due mogli e quindi hai la grande famiglia allargata? No, non abbiamo mai voluto fare la famiglia allargata, nel senso io ho Federica, che adesso ha 23 anni e è proiettata verso la sua vita, con Rachele, che appunto è la mia prima compagna, che siamo sempre stati molto amici, compagni, ci siamo lasciati e poi devo dire che io sono stato molto vicino a mia figlia, insomma, da subito, però non abbiamo mai voluto fare poi la famiglia allargata quando è arrivata Valentina, che è mia moglie attuale, quando sono arrivati gli altri tre figli, Bianca e i gemelli, Rocca e Maddalena, però ecco, i fratelli si frequentano e si sentono, però non c'è stato il desiderio di fare questa famiglia allargata. Le famiglie le hai separate, diciamo così? Sì, beh, anche perché ho visto che Federica, la prima figlia, voleva le cose separate, era giusto rispetto. Voleva le cose chiare. Sì, bravo. Ma sei nato, secondo te, incasinato, nel senso che c'è proprio il caos nel tuo cervello o è un po' la vita che ti ha indotto ad esserlo? Allora, io sono della vergine, visto che prima si parlava di segni con Antonio. Ascendente Scorpione, e tutti dicono, ma come la vergine è molto ordinata? Beh, diciamo no, devo avere un mio ordine molto particolare, che ancora devo trovare. E poi sì, ti ho detto, è stata una vita molto bella, perché ho vissuto in una famiglia, che comunque con un papà imprenditore, un periodo anche di successo, di viaggi, insomma di gioia negli anni Ottanta, e poi invece negli anni Novanta di grande dolore, nel fallimento dell'impresa, una sorella morta giovane. Aspetta, ci arriviamo. Cioè, tu praticamente conducevi questa vita di agio, di viaggi, questa famiglia unita che comunque aveva la possibilità economica di vivere privilegi. Poi improvvisamente il tuo papà fallisce. Beh sì, diciamo che è la stessa impresa, poi all'improvviso è fallita per dei motivi che sono lunghi da spiegare, e ovviamente lì c'è stato un tracollo economico a casa. Però a un certo punto poi arriva, l'hai anticipato, la morte di tua sorella. Sì, purtroppo avevo Arianna, mia sorella, che aveva un diabete, insomma, da quando era bambina, è una serie di complicazioni, poi l'hanno portata appunto alla morte, e devo dire che è stato ovviamente un trauma terribile per me, per tutta la famiglia, per mio papà che poi è morto pochi anni dopo, perché ovviamente non si sopravvive evidentemente anche alla morte di una figlia. Con, peraltro, anche questa cosa di aver tenuto sia mia sorella che mio papà tra le braccia mentre morivano, purtroppo si dice quella cosa terribile, il peso morto, sì, è vero. Sono traumi che ti porti, anche se poi ho provato a reagire, a dire, beh, di fronte a questo io devo vivere due vite, anche quella di mia sorella, e di fronte a questo devo vedere tutti i lati positivi della vita, perché poi, insomma, quando la vita non ti regala tragedie vuol dire che va tutto bene. Eh, non è facile, cioè ci vuole tanta forza per superare, soprattutto perché diciamo che tu l'hai toccata, la morte, e quindi guardare oltre non è sempre facile. Probabilmente non ci sono neanche riuscito, sono cose che restano sopite. Ma pensi che sia questo che ti ha reso intransigente, come ti sei definito tu? Sì, nel senso che, comunque, intransigente, soprattutto nel lavoro, io ci tengo molto, lo sai, no? Nel lavoro molto meticoloso, anche esagerato, e nello staccare un po' poi il lavoro dal resto della vita. Sono, come dire, molto geloso anche della mia vita privata, come sai, non ho tanti amici, una cosa è il lavoro, un'altra cosa è la vita, la mia famiglia, nel lavoro sono molto dritto, questo carattere mi hanno dato anche mio papà, che era un imprenditore di origine romagnola, nella vita si lavorava, io dico spesso che sono calvo e calvinista, perché, insomma, si lavorava già da 15 anni, io stavo in cantiere con lui, ovviamente nelle pause della scuola, e devo dire che questa rigidità, però, in parte mi ha aiutata. Sì, sì, mi ha seguita. Ma, senti, devo dire una cosa, però, non hai mai nominato la tua mamma? Ma sai che la mia mamma, poi, oltretutto, le mando un bacio, è ancora in ospedale, sì, perché con mamma avevo un rapporto di amore e odio, non ho mai avuto un rapporto così semplice con lei, adesso mi sto riavvicinando nel momento della malattia. Ah, incredibile. Sì, perché, insomma, ho capito che ha bisogno di me, un'altra figlia. Lei che si aspettava da te, o comunque i tuoi genitori che si aspettavano? Ah, beh, che proseguissi la carriera di imprenditore di mio padre, perché, insomma, anche quando mi sono andata a scrivere all'università, per loro era economia, architettura. Mia madre mi diceva, nella vita sarai un fallito. Mi dico, grazie mamma. Ah, così ti diceva. E ora che invece sei diventato una persona di successo? Insomma, giornalista, diciamo, sono contento della mia carriera. Beh, adesso diciamo, perché mio figlio fa il giornalista, dico sì, non per merito tuo.